Ma vorrei che fin dall'inizio riuscissimo a percepire il valore e la serietà di questo tema della nostra vita cristiana. Ce lo ricorderà, ce lo spiegherà bene Paolo, a cui trovo un benvenuto, vedo subito la parola. Grazie. Si sta ascoltando in serietà. Mi sento un po' a casa, posso cominciare anche con il franzo, mi ringrazio particolarmente per chiamare un po' di vita e voglio essere qui, non lo dico per viaggiare veramente, mi sento un po' a casa e per me è una gioia girare l'aria in un suono per condividere la parola. Poi mi sono pentito di aver accettato quando mi ha detto che la parola è una preghiera, ma ci sta. Cercheremo di evitare un po' a riflettere su queste cose che un po' tutti ci riguardano.